Furto a Milano, l'ex velina Ludovica Frasca derubata in pieno giorno, denuncia l'insicurezza cittadina. Prima di visionare il video, premi il pulsante iscriviti, e lasciami un mi piace, è importante per noi avere il tuo supporto. Continuiamo con il video, grazie. L'ex velina e attrice Ludovica Frasca è stata vittima di un furto nella sua casa a Milano. I ladri hanno colpito nel pomeriggio di sabato 15 luglio, rubando beni di lusso come borse e gioielli. Nonostante la perdita, Frasca ha dichiarato che intende ricomprare gli oggetti rubati. Tuttavia, la sua preoccupazione principale riguarda la sicurezza della città, che afferma essere in declino. Non sono sola, dopo aver condiviso la mia esperienza sui social, ho ricevuto numerosi messaggi, ha affermato. Ludovica Frasca ha raccontato l'episodio del furto sui social in un'intervista il giorno. Attraverso le sue storie su Instagram, ha spiegato di essersi assentata da casa per un'ora prima di tornare e trovare la porta d'ingresso forzata e la casa saccheggiata. Il furto è avvenuto nel centro di Milano, creando ulteriori dubbi sulla sicurezza della città, che da tempo viene segnalata in peggioramento, fenomeno che coinvolge anche altre città, come nel caso di Giovinazzo. Frasca ha rivelato che durante il fine settimana anche un altro appartamento nello stesso condominio è stato preso di mira. Oltre a denunciare il furto alla polizia, l'attrice ha lanciato un appello al sindaco di Milano tramite i social media. Mi aspetto una risposta. Sono come un'inquilina che, di fronte a un qualsiasi problema, chiede aiuto al proprietario che a sua volta si rivolge all'amministratore, ha dichiarato Frasca. Questa metafora mira a richiamare l'attenzione di Beppe Sala su un problema di ordine pubblico. Non mi interessa che sempre più strade diventino pedonali e fruibili se devo avere paura di uscire in un normale pomeriggio. L'ex velina ha ammesso di essere ancora scossa dall'evento, poiché ha sentito il furto come una violazione della sua casa, il suo porto sicuro. Non nutrendo false speranze di recuperare gli oggetti rubati, Frasca ha dichiarato pubblicamente di ricomprarli nel tempo. Sono arrabbiata, ma sono forte e ricomprerò tutto ciò che mi hanno portato via, piano piano, ha affermato. Gli oggetti trafugati includono borse e gioielli dal valore di diverse migliaia di euro. Scoprite un mondo di pettegolezze. Iscrivetevi e cliccate su mi piace per non perdere le news. Su Daily Gossip School troverete tutte le informazioni avvincenti e le esclusive coinvolgenti del mondo dello spettacolo. Restate con noi e lasciatevi coinvolgere dalla magia dei pettegolezzi e dei segreti delle star. Unisciti a noi e vivi l'emozione dietro le quinte.